Diffondere conoscenza sulla malattia renale cronica, questo l'intento della giornata mondiale del Rene che nel 2022 si celebra il 10 marzo. Una condizione largamente diffusa e in costante aumento a livello nazionale che nel bellunese colpisce circa 14.000 persone. La malattia renale cronica è una malattia purtroppo silente, quindi dà dei segni evidenti di ritenzione urinaria, di difficoltà respiratoria, di estrema debolezza solo nelle fasi molto avanzate. Ecco quindi l'importanza di fare una diagnosi precoce e l'altro aspetto quello della prevenzione perché è una malattia estremamente invalidante e anche con costi sociali molto molto elevati. Dal mantenersi in forma e attivi al controllare il livello di zucchero nel sangue e della pressione sanguigna al mantenimento di una dieta sana ed equilibrata, differenti sono le azioni raccomandate nell'ottica della prevenzione, tuttavia tutte molto semplici delle cosiddette regole d'oro per mantenere in salute i reni. Fondamentale inoltre è la diagnosi precoce. Con dei semplici esami del sangue e delle urine, ricorda Lulz, è possibile capire se i reni hanno problemi o funzionano bene. Il messaggio più importante è quello di adottare degli sani stili di vita perché questo previene tutte le malattie croniche, quindi non solo quella renale, in particolare anche quella renale. Quindi stili di vita adeguati, buona idratazione, attività fisica regolare e nelle persone anziane, ripeto, e con diabete e ipertensione fare anche degli esami, questi esami di controllo con il proprio medico.